oh 3 a 0 di abraham 92esimo minuto che bella partita lo possiamo finalmente dire che è andato tutto bene quello che poteva andare bene oggi cioè ci è andato tutto bene per una volta diciamo prendiamocela cioè oggi se avessi dovuto scrivere un copione non avrei immaginato nulla di meglio quello che è accaduto regà perché cristante che fa assist a bove su rigore di sponda sul palo grande brian cristante anche oggi ragazzi migliori in campo eccessione fatta per il rigore e magari della prossima volta li mettiamo dentro è meglio ma va bene ci stiamo allenando per tirarli poi in coppa giovedì non vi preoccupate siamo tranquilli sui calci di rigore abbiamo la situazione sotto controllo considerando che in un eventuale calci di rigore giovedì di bala sicuramente non ci arriverà a vivo quindi l'unico rigorista che ci dà un po di fiducia sicuramente non arriverà alla fine e credo neanche pellegrini quindi probabilmente li tireranno cristante mancini e selicchi rigori comunque vabbè a parte queste cose che devo dire il gol di pellegrini sono contentissimo perché perché il capitano saluta tutti quanti quelli che hanno straparlato come al solito perché la gente piace parlare ragazzi la gente piace parlare nel calcio come nella vita e diciamo che poi il calcio ecco ti dà sempre la possibilità di riscattarti devi stare zitto devi lavorare non devi fare proclami e a me pellegrini piace perché non sarà mai totti mai dei rossi mi fa ridere chi oggi dice no perché perché doveva andarci lui si è cagato sotto a tirare il calcio di rigore come se non ci fossero dei rigoristi che dopo che sbagliano due rigore perché poi lui viene da qualche errore mi ricordo per esempio quello che io l'anno scorso questo qua o il feiner da qualche errore l'ha fatto sul discredito oggi si è deciso prima della partita sicuramente di far tirare cristante come di far tirare cristante eh neanche belotti ma cristante perché pure belotti l'aveva sbagliato col torino quindi cioè ci abbiamo delle situazioni in cui il rigorista può cambiare tra l'altro poi l'anno scorso per esempio non aveva lo tirò abram lì all'ultimo minuto non so se lui non era in campo ma comunque abram l'anno scorso qualcuno l'ha tirato quindi no perché si è cagato sotto eh bellegrini non è totti ah non è il rigorista che tira tutti i rigori se lui è in campo dire rigori prende la palla l'arte spostate perché non è totti e mai lo sarà sfortuna sfortunatamente ehm ma comunque ragazzo che si impegna che ci mette impegno poi non gli sta riuscendo quasi nulla oggi gli è riuscito tutto ma anche prima del del rigore anche i contrasti situazioni del gioco passaggi cioè belle situazioni e dovuto pure al sostegno della curva perché poi è fondamentale che i tifosi lo sostengano e e e pellegrini non ha fatto nulla per non meritare il sostegno dei tifosi della roma e chi l'ha criticato ragazzi è solamente perché ci avete rabbia repressa dentro perché non c'è motivo per criticare oltremisura pellegrini o meglio si può dire che le perché non sta giocando bene non gli stanno riuscendo le giocate e non ci mette magari la cattiveria il fisico ci dovrebbe mettere però è uno che l'impegno ce l'ha sempre messo quindi io posso giurico a quello poi dopo i risultati è inutile starne a stare a sottolineare comunque partita è finita mi sta spostando qui tra le tazzine e quindi questo è il discorso su pellegrini mi sembra pure abbastanza logico non credo ci sia nulla raggiunge poi non mi piace non mi piace ognuno dice quello che vuole fate quello che volete ma criticare come è stato criticato pellegrini alcune persone stasettiva non c'è senso e diciamo sposo in pieno la la risposta che ha dato la curva a tutta questa situazione chiaramente pellegrini è un giocatore di qualità non si può prescindere per arrivare fino in fondo agli due obiettivi cioè al quarto posto e l'europa league da recuperare abram da recuperare pellegrini da recuperare velotti da recupera tutti quelli che ci stanno come l'anno scorso non si poteva prescindere da recuperare zagnolo il quale ha purgato in finale vedessi queste cose qui quest'anno ve lo dico di pellegrini di abram abram è l'altro che ha segnato alla fine sono stracontento quello di lui perché anche lui sta vivendo un momento che non ha senso perché non ha senso non gli riesce nulla cioè abram l'anno scorso oltre il fatto che ha segnato gli riuscivano anche le giocate le sponde diciamo tante altre cose quest'anno non gli riescono ragazzi non gli riesce nulla 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 e non gli riusciva nulla fino a tanto che poi spian solo ha messo la palla dentro ha tirato la testa ha segnato e belle ragazzi meglio di così non potevamo approcciare la partita giovedì cioè meglio di così non si poteva approcciare è tornato già abram sul bacchino pure era convocato stava in panchina quindi belle notizie secondo me c'è una dalla roma fanno filtrare cose molto più negative rispetto a quelle che sono tante volte questi due infortuni sono uno di questi perché nessuno pensava sul bacchino potesse andare in panchina né tanto meno abram si fanno le cose più drammatiche di quelle che sono morigno parla male della rosa secondo me volutamente per per tenere bassi in attimino le aspettative durante le interviste post partita sono sicuramente dichiarazioni concordate prima comunicata la squadra come felice capello tu hai nel libro di totti si parlava di questo tipo di comunicazione fatto dagli allenatori no che stabilivano con lo spogliatoio cosa sarebbe andato allenatore a dire sono un burino fa quasi sempre e ebbene ragazzi oggi bene tutto bene se ricche che non ha mai preso una palla su un contrasto massimamente le caviglie di oggi è il quale sicuramente stasera si farà si farà operare per rimettersi a posto le caviglie perché se lì che non ha mai preso la palla bove ragazzi bo ecco faremi parlare di bove l'ho detto di stiamo bove fa la giocata più bella della partita che è quella che viene fatta con la testa con la concentrazione con l'attenzione perché bove non so che carriera farà non so che cacciatore diventerà però è uno che sicuramente ci sta con la testa nelle partite ha fatto un errore secondo me di esperienza quello che poi ha portato al rigore dell'udinese perché non ha voluto buttare via la palla in una situazione in cui l'udinese ha l'aggredito ferocemente ha provato ad allargarla ed è arrivato poi il tiro su cui Mancini si è trovato con il braccio aperto però ha fatto un partitone e ha fatto una giocata della madonna sul gol segnato perché fa una giocata della madonna parte da lontano per arrivare in velocità e prendere quel pallone prima degli altri non è una cosa scontata è una cosa che ti fa capire che il giocatore ci sta con la testa prende i tempi guarda l'avversario su quando lui può entrare guarda il compagno la rincorsa quando ha colpito il pallone per quando lui può entrare in campo e non stare dentro l'area prima che lui colpisce la palla cioè è una giocata ragazzi che 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 ti porta a vantaggio e ti porti tre punti perché non so se la roma sarebbe stata in grado di vincere la partita senza quei tre punti ma sono voluto spostare così a buffo quindi bene bove bene bove bene bove grande grande gol benissimo cristante inutile a dirlo ma secondo me cristante migliora in campo un'altra volta anche oggi perché c'è stato con la testa fino alla fine con la con la benda quando stava lì per te la temevo perché cristante fondamentale nel centrocampo della roma alla fine anche bene guanaldum che voleva l'occhiadetti 3d alla fine perché vedeva solo bidimensionale non so che cosa ha fatto e bene così ragazzi meglio di così non si poteva meglio di così non si poteva giovedì vada lo stadio tribuna montemario nord e vediamo che esce fuori ragazzi giovedì mi raccomando andate con il bandiera con stadio e magliette giovedì bisogna fare il panico come abbiamo fatto con il leister l'anno scorso ragazzi cioè bisogna veramente fare il panico detto questo dai rega sono contento anche perché fondamentale va a essere così che si appartiene dai